racconti di donne uno spazio per raccontare la vita i bisogni e successi delle donne conduce maria martinez la battaglia benvenuta racconti di donne grazie grazie per questo invito allora paula tu oltre a cantare benissimo ti occupi di crescita personale da molti anni e sei anche assessora alle politiche sociali pari opportunità partecipazione casa lavoro e politiche giovanili nel comune di pieve manuele allora comincia spiegandomi come riesci a conciliare questi impegni spiegato a me che sono invidiosa delle donne che adesso chiamano multitasking no allora il multitasking non fa per me perché come insegnano le pratiche meditative anche la scienza è stato proprio riscontrato e comprovato che crea anche danni cerebrali quindi cerco di non fare più cose alla volta ma di farne una alla volta con una dedizione assoluta quindi mi sono organizzata i giorni della settimana in modo da dedicare un momento ad una cosa momento ad un'altra e poi ci sono delle fasi in cui le priorità cambiano un pochino per cui ci sono dei momenti in cui devo dedicare più attenzione a un aspetto piuttosto che all'altro e la fortuna è che avendo appunto un lavoro autonomo la fortuna la scelta anche un po di vita lo programmo sulla base di quello che poi posso e riesco a fare certamente vuol dire impegnarsi molto perché mi capita di lavorare sette giorni su sette dalla mattina alla sera tardi quindi sicuramente tanto impegno e tanta presenza certo immagino senti nel 2015 hai fondato l'istituto di crescita personale la rinascita dell'essere mi affascina moltissimo questo tema quindi vorrei focalizzarmi su questo puoi spiegarci brevemente in cosa consiste un percorso di crescita personale allora intanto posso iniziare accennando un po' al mio io ho iniziato il mio io mi definisco un po' una ricercatrice esistenziale perché così è stato sempre un mio ho sentito sempre un forte richiamo verso tutto quello che è il patrimonio sapienziale per cui fin da ragazzina ho iniziato i primi passaggi sono stati lo studio approfondito della bibbia del vangelo con il parroco poi vabbè la mia ricerca si è aperta e nell'incontro con la filosofia le scuole superiori ho trovato un grande riscontro proprio una passione verso questa materia a un certo punto della mia vita quando ero proprio adolescente ho incontrato questa maestra che si chiama lida perry che è una psicologa e era aveva questa scuola e che era l'istituto europeo di rebirth in integrativo ed era master reiki ed è master reiki perché è ancora viva anche se si trova in america in questo momento e così con lei ho iniziato a spostare la mia ricerca che si svolgeva prettamente sui testi sui libri anche su un piano di diciamo così discesa all'io viaggio all'io quindi ho trovato degli strumenti per trasporre in maniera concreta quelle che erano le mie ricerche più intellettive diciamo la mia sete di domande esistenziali o meglio di risposte alle domande esistenziali e questo rapporto è molto bello perché non magari non tutti hanno la fortuna di incontrare un maestro una maestra con cui camminare crescere nel percorso della vita ancora oggi ecco la frequento è con me quindi è un rapporto molto importante tu che metodi usi o tecniche per questi percorsi ma allora uso dall'interno dell'istituto l'appunto una scuola di rebirth in che è un po l'eredità dell'istituto internazionale di rebirth in integrativo e l'ho chiamato rebirth in dell'essere perché a questa tecnica che appunto ho imparato con questa maestra ho aggiunto un po quelli che sono i miei le mie passioni e le mie ricerche il frutto delle mie ricerche per cui sono sono molto dedicata alla meditazione alla mindfulness ho appunto approfondito varie tematiche con varie metodologie e quello che faccio un po soprattutto nei percorsi individuali quindi ho conosciuto diciamo che negli anni ho sempre continuato a ricercare e continuato a conoscere delle tecniche sempre nuove per cui quando le persone fanno un percorso individuale con me cerco proprio di costruire un abito perfetto per ognuno di loro che cosa intendo dire che ascoltando profondamente quelli che sono gli obiettivi cerco di offrire la tecnica più adatta per arrivare al punto quindi per dare quello strumento che possa trasformare i limiti in nuove nella conoscenza di nuove potenzialità o le crisi in opportunità insomma ho capito in sintesi ok sì certo ma da te vengono più uomini o donne e poi qual è il problema più comune beh allora le donne sono più portate all'introspezione gli uomini fanno un pochino più fatica quindi ho notato che quando arrivano degli uomini veramente motivati fanno degli ottimi percorsi molto profondi molto come dire vanno davvero toccare dei punti importanti quindi si mettono molto in gioco però statisticamente sono di meno questa questo è un dato arrivano più donne sicuramente i temi diciamo che quando si va in profondità si scopre che bene o male le tematiche che ci mettono allo scoperto sono molto comuni cioè bene o male tutti noi abbiamo le stesse ferite le stesse gli stessi bisogni le stesse paure poi ognuno ce l'ha declinato in maniera diversa dipende un po dalla sua storia dipende però ci sono molti tratti che possono accomunare tant'è che i lavori di gruppo per esempio funzionano molto bene proprio perché si attiva un processo di risonanza virtuoso per cui ognuno di noi in qualche modo crede di essere l'unico ad avere quel limite quella paura e pensa che gli altri giustamente dal momento che non è che nella vita quotidiana raccontiamo la nostra intimità a tutti perché sarebbe anche inopportuno pensa che gli altri siano totalmente avulsi da quel limite da quella fatica in realtà nel momento in cui ci si mette tutti in gioco è bellissimo vedere come in una serata abbiamo fatto poco fa un corso di autostima mediante zoom naturalmente perché non si può lavorare di persona in questa fase però anche così nonostante lo strumento telematico insomma che può sembrare che crea una distanza in realtà c'è stata un'apertura immediata per cui persone che non si conoscono che in quelle tre ore passate insieme tirano fuori storie racconti si dedicano all'ascolto reciproco è una cosa che mi affascina sempre molto no perché in questo tempo abbiamo tanti strumenti ma la conversazione è sempre rapida veloce poco approfondita mentre in questi spazi ci si prende il tempo per raccontarsi e per ascoltare ed è qualcosa di molto ricco e prezioso certo dove ti possiamo trovare nel caso avessimo bisogno allora attualmente sto lavorando online appunto quindi il mio sito www punto larinascita dell'essere punto com mi si può contattare anche mediante telefono 342 82 99 162 oppure apposta chiocciola larinascita dell'essere punto com ho anche una pagina facebook che la rinascita dell'essere crescita personale la rinascita dell'essere e anche lì insomma aggiorno sempre con i programmi ci sono anche poi anche su youtube ho messo diversi video in questa fase diciamo covid ho inserito una serie di video per così con delle meditazioni delle riflessioni delle proposte ecco per rendere produttivo questo momento produttivo dal punto di vista della ricerca interiore questo momento che necessariamente ci isola dalla dalla frenesia del quotidiano dagli incontri dal dal lavoro ad alto ritmo e ci pone nella condizione di poterci prendere lo spazio per guardarci un po dentro insomma e quindi ho dato qualche suggerimento ho visto infatti che durante questa quarantena hai usato i social network per continuare questi percorsi che tipo di riscontri stai avendo attraverso lo schermo riguardo questo preciso lavoro ma in realtà devo dire che come sempre quando invece di vedere il limite vediamo l'opportunità si scopre un mondo per cui ho scoperto delle competenze che non avevo semplicemente perché quando non si ha l'urgenza si rimanda sempre giorno dopo per cui non mi ero non mi c'ero dedicata dico la verità per cui ho scoperto che è un altro modo cioè non è sostitutivo per cui non è che d'ora in poi il rapporto vis-à-vis lo si lascia perdere diciamo però è un altro modo per fare delle cose interessanti per esempio non so ho fatto delle dirette facebook eccetera e ho scoperto che attraverso i messaggi potevo proprio conversare rispondere ed è stato molto divertente interessante e carina l'idea di potersi connettere in maniera rapida con le persone perché poi ovviamente anche nei tempi in cui c'è la possibilità di spostarsi quando non avevamo questi limiti insomma da quarantena chiaramente traffico insomma a volte non è sempre facile essere dove vorremmo no però attraverso appunto questi strumenti si accorciano le distanze per cui penso che continuerò ad utilizzarli anche ne ho scoperto la potenzialità insomma e ho notato che funzionano molto bene cioè si lavora bene magari non tutte le attività che svolgo anzi no senza magari sicuramente non tutte le attività che svolgo le posso proporre in questa modalità ma molte sì si finisce per parlare della pandemia in questo periodo è inevitabile come ha influito nella tua crescita personale questa pandemia e come pensi che cambierà la società se cambierà dopo questa esperienza tanto strana e anche molto dolorosa per certi versi e per tante persone ma allora per quanto riguarda me beh ha cambiato molte cose sia da un punto di vista del lavoro delle delle relazioni insomma diciamo che ho molto molto fruito di questi strumenti che ho nel senso che comunque non ho patito l'isolamento perché quando si costruisce una relazione importante con se stessi diciamo che viene un po meno quel senso di solitudine perché dentro di noi quando si impara a frequentare questo spazio interiore c'è proprio tutto poi sicuramente aiutano tantissimo questi mezzi però sentendo molti clienti molte persone che incontro per lavoro eccetera quando si si è un po nelle dipendenze da cose da fattori esterni per non incontrare ferite paure sensi di inadeguatezza eccetera eccetera che stanno dentro di noi quando questi elementi che andiamo triangolare esterni vengono un po meno ci si trova vis a vis con queste con questi appuntamenti con noi stessi che abbiamo rimandato proprio mediante il fare per cui questi strumenti che mi portano nell'essere mi hanno insegnato a stare a contatto con tutte le parti di me mi permettono di di fruire di questo tempo in maniera serena felice e di godere di un tempo diverso quindi dove posso magari prendermi più spazio per la lettura la meditazione ed altre cose anche se poi appunto essendomi dedicata a scuola vabbè a parte l'impegno amministrativo che è comunque molto importante anche in questa fase ma essendomi dedicata ad imparare tutti questi strumenti il mio tempo per me è finito ben presto perché in realtà poi mi sono dovuto studiare tutte queste nuove cose per quanto riguarda gli altri il mondo ma io credo che abbiamo un po credo che questa scoperta dell'opportunità che abbiamo penso tutto il mondo del lavoro dove questo concetto del del telelavoro dello smart working che comunque hanno molto a che vedere con la conciliabilità dei tempi vita lavoro la l'ecologia quindi se diminuiamo un po gli spostamenti diminuiamo anche il traffico gli ingorghi e tutto quello che diciamo la l'impatto che l'attività lavorativa sull'ambiente quindi credo che non si tornerà proprio indietro del tutto un'apertura e una come dire una un'integrazione di questa modalità di di stare anche nel mondo del lavoro continuerà credo quindi questo è un aspetto per quanto riguarda livelli interiori questo secondo me dipende molto dalle persone ci sono persone che hanno un atteggiamento recriminatorio un atteggiamento vittimistico di lamentela che continui che ce l'hanno in questa fase continueranno ad averlo e persone propense all'apprendimento che impareranno delle cose da queste fa da questa situazione per esempio mi viene in mente una riflessione che ho condiviso sul mio blog sempre del sito la rinascita dell'essere la gratitudine cioè quanto quanto c'è nella nostra vita no quante relazioni quante opportunità il tempo libero insomma quanta abbondanza c'è e non vediamo e adesso che viene un po meno ce ne accorgiamo oppure un altro aspetto di quanto abbiamo veramente bisogno cioè di quanto ci riempiamo di cose proprio per non stare con noi stessi o per un senso del fare piuttosto che quindi riscoprire anche che forse possiamo vivere con un ritmo diverso ecco per esempio io in questa fase ho ritrovato un ritmo un po diverso senti per finire paola è una domanda che faccio molto spesso praticamente a quasi tutte le mie ospiti ti sei mai sentita discriminata in quanto donna nell'ambito del lavoro nell'ambito della politica molto quello è veramente un ambiente allora io ho iniziato a fare politica che avevo 23 anni quindi piuttosto giovane e essere riconosciuta per le mie qualità è stato un lavoro molto difficile e soprattutto quando avuto ruoli politici cioè una fase del mio percorso sono stata segretaria di sezione di circolo in un qualche anno fa per cui si circa otto anni fa ormai ho iniziato una decina di anni fa diciamo perché sono stata un paio d'anni poi sono passata all'amministrazione comunale e in quell'ambito dieci anni fa questa questa sede era praticamente abitata solo da uomini di una certa età proprio piena gerontocrazia maschile per cui il fatto di parlare un linguaggio diverso di avere esigenze diverse per esempio ecco io notavo che loro amavano parlare 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 e non 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 trarre mai conclusioni per cui c'era questo tempo no dato anche degli uomini dagli uomini della generazione forse precedente alle nostre che avevano comunque la moglie che si occupava dei figli del quindi avevano questo tempo no e lo spendevano parlando e facendo un po vedere ognuno che la sapeva più lunga dell'altro e io avevo portato un linguaggio nuovo più concreto anche influenzato da tutte queste mie insomma ricerche che già allora e strumenti che già allora avevo di ascolto di mediazione quant'altro e devo dire che è stato molto difficile essere presa sul serio molto molto per cui sì l'ho sentito molto la fatica di dover come si dice davvero essere brava due volte tanto e essere riconosciuta molto molto meno cioè brava nel senso prepararmi approfondire cioè entrare nei temi e qualche volta mi sono sentita dire frasi del tipo da quando ci sei tu qui si gioca con le bambole cioè cose proprio sì cose proprio davvero quelle discriminazioni come dire quando la persona viene misconosciuta per quello che è non per quello che dice no e quindi sì l'ho sentito molto insomma adesso tutto a posto sì sì poi nel ruolo amministrativo è un pochino diverso perché beh poi diciamo che gli ambiti di cui mi occupo per mia sicuramente per mia tendenza personale insomma per mia storia perché poi anche prima di fare questo sono stata educatrice al nido quindi ho lavorato nell'ambito delle insomma del sociale quindi per mia tendenza personale sono anche luoghi dove le donne dove ci sono le donne quindi servizio sociale e va bene pari opportunità eccetera per cui sì nell'ambito amministrativo l'ho sentita molto meno per certi versi per altri quando sono uscita dal mio ambito quindi quando espresso pareri importanti su altri aspetti l'ascolto è stato molto molto meno evidente e profondo e ancora devo dire che la scelta di figure femminili ancillari molto allineate al potere maschile trovano spazio nel nel mondo anche dell'amministrazione comunale insomma a volte davvero si si apprezzano di più le donne che sono allineate con con l'espressione del potere maschile senti paola tu comunque hai un cognome bellissimo al quale sicuramente fai onore battaglia sia ti ringrazio tantissimo del tuo tempo di questa bellissima conversazione ti faccio un grande in bocca al lupo spero di abbracciarti fisicamente presto grazie a te è stato un piacere grazie a te